I miracoli si manifestano quando crediamo veramente in Dio. Perché la nostra fede non produce miracoli nella vita di ogni giorno? Perché tante volte professiamo la nostra fede solo a parole e non con le opere. Perché prendiamo decisioni che ci allontanano da Dio seguendo lo spirito del mondo. Come aumentare la nostra fede? Preghiamo e viviamo la nostra vita assumendo decisioni che ci portano vicino al cuore divino di Gesù. Hai mai sperimentato miracoli divini nella tua vita? Qual è la cecità spirituale che non ti permette di vedere Cristo e di avvicinarti di più a Lui?